Ciao sono Luca di Mr. Gadget, torno di nuovo a parlarvi di OnePlus 5 perché ormai da più di un mese abbiamo la versione Soft Gold, quella da 64 GB di memoria e con 6 GB di RAM Ma come sono i due prodotti uno accanto all'altro? Allora scopriamoli, OnePlus 5 da 8 GB di RAM sfida OnePlus 5 con 6 GB di RAM Ecco dunque i due OnePlus 5, la versione cioè da 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna e la versione invece con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna Poi per il resto sapete che i prodotti sono praticamente identici con la doppia fotocamera, con la versione di apertura normale e poi con il teleobiettivo con lo Snapdragon 835, la batteria da 3300 mAh Insomma caratteristiche che rendono questi due telefoni praticamente identici in tutto tranne come detto nella dotazione di memoria e nella dotazione di RAM Sottolineo tra l'altro che questa versione di oro secondo me è particolarmente bella per il fatto che giocando con il colore a volte appare addirittura un silver non è un oro pataccone, non è un oro un po' cafone ma è essenzialmente fatto bene con la parte frontale invece bianca mentre lo sapete già la parte frontale del S8 nella versione Midnight Black è questa con il frontale dunque nero ma nel comportamento di tutti i giorni io ad esempio aprendo la fotocamera trovo differenze tra 6 e 8 giga aprendo Chrome un'altra possibilità il browser del telefono vediamo aprendo Chrome ci sono differenze tra i due prodotti? essenzialmente no vedo che la luminosità automatica è intervenuta allora togliamo la luminosità automatica per eliminare ogni possibile differenza in modo tale da poter vedere i display in tutto il loro splendore entrambi i prodotti tra l'altro sono collegati alla rete mobile tra l'altro entrambi i prodotti collegati alla rete mobile di 3 e quindi insomma vediamo il comportamento del telefono nel momento in cui viene utilizzato dunque nel modo più banale possibile cioè utilizzando un browser se vedo l'apertura ad esempio di altri programmi che potrebbe essere ad esempio Facebook vedete essenzialmente insomma la velocità con cui questa cosa viene sia in entrata che in uscita è praticamente identica mi piace anche l'idea di fare un piccolo confronto così proprio pedestre insomma basterebbe usare un'applicazione di benchmark per fare la stessa cosa però vedere come si comporta essenzialmente il OnePlus di cui chiudiamo adesso tutte le applicazioni rispetto al Galaxy S8 che è uno dei competitor se sapete che in alcuni paesi del mondo c'è lo Snapdragon 835 in altri paesi invece come il nostro c'è il processore Exynos vedete ad esempio apertura della fotocamera praticamente identica eliminando ecco c'è la curiosità che i tasti sono invertiti invece tra tasto indietro e tasto multitasking chiamiamolo tasto chiusura delle applicazioni se apro Whatsapp vedete anche in questo caso essenzialmente un comportamento che è praticamente identico cosa succede con l'8 giga vedete anche con l'8 giga fotocamera che si apre in un tempo identico anche provando l'apertura di Whatsapp vedete essenzialmente tempo assolutamente identico tra i due smartphone che cosa possiamo essenzialmente dedurre scusate che ogni tanto il Samsung fa un po' quello che vuole ma è colpa della pellicola che ho applicato possiamo dedurre essenzialmente che questi sono tutti e tre telefoni di livello elevatissimo ma nel momento in cui andiamo a confrontare il modello 6 giga con il modello 8 giga di OnePlus non otteniamo grandissime differenze significative nel momento in cui usiamo delle semplici applicazioni o facciamo delle operazioni che sono del tutto normali certo nel momento in cui ad esempio si vuole montare un videoclip nel momento in cui si vogliono fare delle azioni che mettono un po' più a dura prova il processore ovviamente un po' la differenza si riesce a vedere applicazioni tra l'altro che girano veramente come un violino su un telefono che ha un aspetto praticamente stock e che per me rappresenta davvero un livello elevatissimo di qualità anche per quanto riguarda la fotocamera vedete l'utilizzo dello zoom tutto sommato una modalità di utilizzo della fotocamera che è molto semplice l'avevamo già vista anche quando abbiamo conosciuto qualche settimana fa il OnePlus nella versione da 8 giga insomma questo è un prodotto che a me piace tantissimo la fotocamera posteriore non è forse la migliore del mercato ma si comporta comunque molto molto bene fotocamera anteriore discreta non è forse la migliore in questo momento disponibile sul mercato ma comunque è discreta e generalmente per me è una qualità del prodotto spettacolare completata tra l'altro se volete conservare il prodotto anche da accessori molto carini questa versione con l'utilizzo del legno è bellissima questa invece che richiama il Kevlar ci sono in silicone c'è una soluzione anche in bambù davvero anche la cura dei dettagli di OnePlus di quelle che non lascia nulla al caso l'ultima cosa che voglio farvi sentire è un po' l'audio non faccio il confronto tra i due mezzi, i due telefoni perché insomma essenzialmente questa parte è assolutamente identica però siccome molti di voi mi hanno chiesto insomma essenzialmente di ascoltare l'audio del OnePlus ecco la definizione del suono non è elevatissima ma ascoltando la musica di Radio Number One avete sentito come il volume invece sia molto alto quindi anche in questo aspetto il telefono si comporta assolutamente bene OnePlus 5 nella sua versione 8GB e nella sua versione 6GB secondo me messi uno accanto all'altro sono due prodotti assolutamente strepitosi vi devo dire probabilmente uno dei migliori acquisti che possiate fare sul mercato anche con il prezzo un po' più alto che però non cambia la sostanza questi sono prodotti veramente molto molto belli e anche a distanza di un po' di tempo ormai sono quasi due mesi che uso il OnePlus 5 nella sua versione 8GB un mese che uso quello da 6GB sono due prodotti veramente che danno piena soddisfazione super promossi da Mr Gadget anche dopo l'aumento di prezzo ciao 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 ciao